... Beh, un inizio sconcertante e un titolo anche peggio Beh ragazzi avete letto bene, basta Fortnite Parliamone assieme Era un po' che volevo fare questo video, era un po' che volevo parlare con voi e finalmente mi sono deciso Ok, iniziamo Vi ricordo solo prima di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina nel caso fosse iscritti nuovi In questo video ragazzi parleremo di tre cose principalmente Fortnite, il mio rapporto con Fortnite e tutti i nuovi cambiamenti che arriveranno sul canale Ebbene ragazzi, Fortnite da quando è uscito è cambiato davvero un sacco Non mi riferisco alle armi, alla mappa o a cose così Mi riferisco principalmente alla community Attualmente il Fortnite che c'è ora mi piace È sicuramente molto più figo del capitolo 2 stagione 1, capitolo 2 stagione 2 E sinceramente a me piace E vorrei prendere questo spunto di riflessione Molta gente ragazzi che prima giocava a Fortnite ha semplicemente smesso per la community E il tipo di player che ormai si sono approcciati e sono rimasti a Fortnite Che sono fondamentalmente ragazzi Fortnite Kids o Tryharders Ormai Fortnite lo vedo come un gioco principalmente improntato sull'aspetto competitive Il concetto di giocare per divertirsi Cioè di casual gamer su Fortnite è un po' venuto meno La gente gioca per vincere, la gente gioca per i tornei Non c'è più chi gioca in pubblica solo per divertirsi E questo ragazzi mi spiace perché io amavo Fortnite e amavo l'OG Fortnite Io gioco dal capitolo 1, season 1 Io sono innamorato dei bot Io sono innamorato della gente che non sapeva costruire E della vecchia pinnacoli pendenti E anche i miei video sono principalmente improntati sul farvi divertire Pensare a una sfida, rendersi una partita in pubblica un po' più difficile Magari non utilizzando l'assalto, non costruendo Io non faccio partite 20 kill, anzi un po' mi annoiano Ma ormai la community interessata a Fortnite ragazzi È principalmente interessata a questo, al competitive E io non faccio competitive È per questo che io ho cominciato molto a pensare Ma sarebbe ancora il caso di portare Fortnite? È ancora davvero così importante per me? Ci ho pensato molto ragazzi E sono forse mesi che mi faccio questa domanda E la risposta in realtà è sì, ci sta Io Fortnite continuerò a portarlo Però ci saranno ragazzi sicuramente meno video Ci saranno meno challenge Perché anche quelli ormai non sono più una grandissima novità Parliamoci chiaro Nonostante tutto però io continuerò a portarne un paio Dato che ho ancora alcune idee che secondo me sono ancora divertenti Sono ancora interessanti Cioè quando uno le vede nella home di YouTube Può ancora dire Ehi fammi vedere questo video D'altra parte però Proprio per questo motivo ragazzi Della community Fortnite Dei nuovi players che ormai stanno giocando Fortnite E del fatto ragazzi che semplicemente sto crescendo Anche i miei interessi sono variati molto Sono diventati molto differenti Ed è per questo motivo ragazzi che ho fatto questo sondaggio In un post community su YouTube Come potete vedere Mentre alcuni giochi come Rust o Rogue Company Sono stati un po' messi da parte Quelli che invece sono piaciuti un sacco Sono Minecraft, Rainbow Six Siege E se non sbaglio anche Warzone Ed è per questo motivo ragazzi che Qui lo dico E probabilmente nei prossimi video Non vedrete solo Fortnite Ma anche Minecraft, Warzone E forse un ritorno al Rainbow E non so ragazzi se farò delle semplici partite O delle sfide Sarebbe molto figo iniziare a fare sfide differenti Anche su Minecraft, su Rainbow e su Warzone Quindi ragazzi ripeto Io continuerò a portare Fortnite E insieme a quello porterò anche altri giochi E ragazzi il motivo oltre a quelli che vi ho già detto E anche perché alla fine gli interessi cambiano Si cresce un po' Io ho iniziato a portare Fortnite Tre anni fa quando ero a liceo E ormai sono all'università E ripeto mi piace ancora Ma semplicemente vorrei anche giocare un po' ad altro Ma anche infatti ragazzi le mie passioni nell'ultimo periodo sono cambiate un sacco Che ne so se siete interessati al mondo dello streetwear e delle sneakers Beh se andate su Instagram Vi faccio vedere tutti i cop che faccio per esempio di scarpe O di vestiti A cui mi sono interessato molto nell'ultimo periodo Quindi mi raccomando Link in descrizione di Instagram Oppure cercate su Instagram Porto The Gamer Insomma me trovate Il fatto ragazzi è che si cresce Si cresce Cambiano gli interessi E vorrei cambiare anche alcune cose del canale E anzi addirittura Oltre a portare nuovi giochi sul canale Sempre insieme a Fortnite Avevo pensato anche proprio di aprire un altro Di crescita personale e imprenditoria Quindi con argomenti Che forse non credo che interesseranno tutti quelli che mi seguono E in questo per esempio mi hanno ispirato molto Riccardo Zanetti Marcello Ascani Il Loreon Format che davvero mi piace un sacco E poi si lo so ragazzi Le live Le live sul sito Viola Rispondo qui perché altrimenti continuerete a tartassarmi Fino alla fine dei miei giorni Le live torneranno Probabilmente in questo periodo ne farò una settimana Una ogni due settimane Tanto per ricordarvi che si Continuo a farle Però ragazzi Fondamentalmente tornerò a farle in maniera seria Solo quando la mia community qui su YouTube Sarà cresciuta molto molto di più E solo in quel momento Io ritornerò a fare live In modo da portare il mio pubblico qui su YouTube Anche sul sito Viola Così come abbiamo fatto in precedenza Quindi questo è quanto ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Che tutte le nuove novità vi possano interessare Lasciate un like se è così Oppure scrivetemi nei commenti Magari perché non è così Se siete interessati alle sneakers Al mondo della crescita personale Se vi iscrivereste ad un eventuale canale di questo tipo E quindi noi boys Ci becchiamo alla prossima Grazie a tutti